Voglio mostrarvi tutti i disservizi di Chima Mobilità Amat. Potete chiamarla come volete, Chima Mobilità Amat. Alla fine il risultato è sempre quello. Vero Presidentessa Gira, Presidentessa del Consiglio di Amministrazione, Avvocato Giorgia Gira. Avvocato Gira, ci troviamo a Lido Azzurro, ma lei non ha mai preso il bus in vita sua se non in casi rari e non penso, Avvocato Gira, che questa sia una fermata del bus, ma ci pensi? Una persona cosa fa? Deve salire, deve stare nella terra piena, proprio nella terra, nel fango per aspettare il bus, perché sul ciglio della strada non può stare, altrimenti proprio in prossimità di una curva verrebbe travolta e sbalzata in aria. Deve necessariamente retrocedere, rifugiarsi qui, ma sulla terra. Pensate a una vecchietta o anche una persona normale, un giovane. Cosa deve fare? Dice devo prendere il bus, vedete qui c'è la linea 15, entra nella terra e aspetta qui il bus, e aspetta che il bus arrivi sotto l'acqua, sotto il sole, insomma sotto tutti gli agenti atmosferici. Ma il bello, anzi il brutto, è che deve salire e stare proprio nella terra. Vedete nella terra? Giorgia Gira, questi sono i servizi dell'AMAT? Piero Bitetti, sappiamo bene che politicamente Giorgia Gira è stata tua espressione. Bene, questi sono i servizi che l'AMAT dà al cittadino. Questi sono i servizi che l'amministrazione Melucci dà al cittadino perché il presidente Giorgia Gira e il CDA sono nominati dall'amministrazione comunale di Tarant. Questo è bene chiarire il concetto. Queste responsabilità riguardano anche il signor Musillo che ora fa il santerello, nel senso che si lava le mani dalle precedenti responsabilità amministrative. No Musillo, tu hai governato, tu hai governato con Melucci e sei responsabile. Quindi cari cittadini di Liduazzurro, cari utenti dell'AMAT, quando andrete in cabina elettorale, pensate un po', in questo schifo ci ha ridotto l'amministrazione Melucci-Musillo, ci ha ridotto la gestione dell'AMAT qui sulla terra, nello schifo, va bene? Quindi quando andrete in cabina elettorale pensate ai vostri piedini nel fango e penso che politicamente getterete tanto fango tanto su Musillo quanto su Melucci. Sono 21 anni che da giornalista denuncio il degrado di Taranto, soprattutto nelle periferie. È l'ennesima volta che vengo a Liduazzurro. L'ho fatto per 21 anni da giornalista, ora denuncio queste cose da candidato sindaco, sì, perché ho una credibilità che voi non avete, la credibilità delle mie battaglie per le periferie. Io da giornalista ho combattuto, voi da amministratori della cosa pubblica avete ridotto i cittadini in questo Stato, per questo io posso chiedere il voto ai cittadini. Voi con quale faccia lo chiedete? Musica Autore dei sovrapposti